Buongiorno ragazzi, bentornati. Oggi andiamo a parlare di un prodotto veramente, veramente interessante per tutte quelle persone che mi piace fare escursioni, andare in montagna, andare di notte, oppure perché no, avere anche in casa una torcia come questa, una torcia da mettere direttamente sulla testa e essere pronti all'avventura. E' veramente una grandissima torcia di qualità, non è la classica torcia che troviamo magari nei centri cinesi, che paghiamo pochi euro. Parliamo di un marchio veramente una garanzia, la Vuovotac A2S e questo prodotto è veramente eccezionale. Vi arriverà tutto dentro una scatoletta come questa, cioè questa qua. Dentro, all'interno, troverete tutto quello che vi serve, cioè la torcia, la fascia per la testa, il cavetto per ricaricare e poi una batteria al suo interno ricaricabile. Questa torcia è fantastica per tantissimi motivi. Uno perché è leggera, due perché ha dei materiali incredibili, tre perché il suo led è qualcosa di eccezionale, ha una potenza di luminosità incredibile. Ha varie modalità di intensità luce che vi permetterà di avere anche una durata maggiore oppure magari avete bisogno di una luce tenue e tranquilla per vedere da vicino o dentro una tenda o avete bisogno di una luce veramente potente da poter guardare o trovare un oggetto dentro un bosco che avete perso, magari un coltellino o qualsiasi altra cosa. Ora vedrete un video in cantina, al buio, dove vi farò vedere, vi mostrerò comunque la sua reale potenza, vi farò vedere che passiamo da un'intensità minima, veramente tenue, a quella più potente, quindi così avete un attimino idea e riuscite a vedere di quanto sia potente questa lampadina. Grazie. 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 Grazie a questi supporti di gomma che vedete, eccoli qua, questi supporti di gomma mi permettono di estrarre la lampada, la vostra fila, la vostra lampada portatile in maniera da poterlo usare anche così senza metterla in testa se avete bisogno comunque di poter illuminare qualcosa. Ragazzi, allora andiamo a capire un po' come funziona il tasto per comandare le varie tonalità di luce. Allora, abbiamo qua un solo tasto, se lo pigiamo una volta sola, lui si accende, come vedete, e vi riporta la stessa luce, la stessa quantità di luce che avete lasciato l'ultima volta, quindi ha un effetto memoria. Vi faccio vedere, pigio, si spegne, se pigio, riparte la stessa tonalità. Per andare a cambiare l'intensità, basta tenere premuto. Guarda, vi faccio vedere. Ok, se tenete premuto, lui aumenta. Se tenete di nuovo premuto, lui va a ritornare a tenere una modalità bassa. Questa è una modalità che serve per illuminare di notte senza dar fasi da nessuno. Se invece volete un'intensità più forte, lo tenete premuto e guardate come illumina. Poi abbiamo l'extra. L'extra qual è? La parte di aiuto. Se noi ci troviamo in difficoltà e vogliamo lanciare un SOS, pigiamo per due volte in maniera rapida, 1 e 2, e ti dà o la superpotenza, quindi il massimo che può fare questa torcia, la potenza massima. Se pigiamo un'altra volta, due volte contemporaneamente, abbiamo il segnale SOS. SOS, vedete? Da qui non c'è l'effetto memoria, né su questa modalità SOS, ripigiamo due volte e torniamo alla modalità super luminoso, il massimo. Queste due non avete l'effetto memoria, quindi cosa vuol dire? Se io vado a pigiare e spengo la pila, la torcia, e vado a ripigiare di nuovo, mi ritorno all'effetto di prima, gli extra non vengono quantificati, cioè non viene memorizzato. Per ritornare di nuovo all'effetto extra, devo ripigiare di nuovo due volte. Ok, due volte sono tornato all'extra, così è l'effetto memoria. Invece se pigi una volta sola, spengo, riaccendo e tengo premuto per avere le due modalità. Questa lampada è veramente formidabile. Poi andiamo a parlare anche della qualità del vetro, ragazzi. Io vi voglio far vedere, guardate la qualità del cristallo che c'è, resistente, limpido, pulito. Questo comporta ad avere una profondità, una qualità di luce pazzesca, perché se mettiamo comunque un cristallo, un vetro che non è di qualità, non è chiaro, non riesce a riflettere, avremo, anche se il led è potente, avremo veramente una luce pessima. Invece qua abbiamo una qualità pazzesca. Un'altra grandissima novità, scusate, è caduto tanto, è indistruttibile. Un'altra grandissima novità di questa torcia è la sua batteria, che io trovo geniale. Hanno messo all'interno una batteria ricaricabile con l'ingresso, guardate, con l'ingresso micro usb. No, scusatemi, con l'ingresso type C. Con l'ingresso type C. Incredibile. Ricaricate questa lampadina senza portarvi dietro mille cavi o suo caricabatterie proprietario, ma un classico power bank con il carretto type C che ricaricate il vostro telefono, ricaricate il vostro MacBook, ricaricate anche lei. La mettete sotto carica, rinserite all'interno della torcia e il gioco è fatto. Ragazzi, io questa torcia ve la stra consiglio, costa 39,99 euro, costa veramente poco per la qualità che ha, è impermeabile, potete metterla dentro l'acqua, tenerla dentro, vi cade nel fiume a 20-30 centimetri, non è un problema, è impermeabile, questa torcia è indistruttibile, veramente indistruttibile, ci potete salire pure su con la macchina. Sono veramente entusiasta di questo prodotto, ma veramente tanto perché quando mi arrivano da recensire dei prodotti che non mi appagano, che non sono di qualità, l'entusiasmo è veramente basso, ma quando arrivano questi prodotti dove, con una minima spesa in più rispetto a un negozio cinese, li portate a casa, specialmente se siete delle persone che andate nei boschi, avete bisogno di qualità. andare lì con della roba cinese dove si rompe la torcia, non funziona, anche la minima cavolata, non è solo la qualità della torcia, la qualità anche della batteria, cioè molto importante andare nei posti e farsi una bella avventura con un amico, con la fidanzata, con la moglie, con i figli, andare in montagna e avere la torcia che non funziona, che si rompe, magari non puoi guardare una grotta, non puoi vedere una cosa, beh, secondo me è per 15 euro in più rispetto alla torcia cinese, comprare una torcia del genere ne vale la pena, sempre se la usate, sempre se vi serve, naturalmente se non siete persone che usate torce, vi serve solo una piccola lampadina, naturalmente, non vi serve, ma se siete persone che andate all'avventura in montagna o vi serve delle torce anche da tenere in macchina per una comodità, beh, ragazzi, è eccezionale, fatemi sapere qui sotto, sotto vi lascerò il link per andare per l'acquisto diretto su Amazon, fatemi sapere se l'avete comprato, come vi siete trovati e cosa ne pensate di questo prodotto, ragazzi, come sempre io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, ciao, beggi!